ragazze e ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video ora tocca a voi arianna e matteo e buon natale oggi è il giorno 3 e apriamo la casella con per un regalo di natale per un consiglio e oggi è super mario maker 2 per nintendo switch un gioco vario e bellissimo che cambia molto da quello che era uscito per 3ds e nintendo wii u bellissimo bellissimo perché perché questa volta non è totalmente come le altre volte è in 2 e c'è super mario 3d world molto altro e anche una storia questa volta in super mario maker 2 si può fare come il creatore dovete voi essere i creatori del livello di super mario e in più potrete anche condividere i livelli con i vostri amici però ma prima dovete farlo e superarlo e poi potrete metterlo online per farlo provare a tutti e ci sarà anche un codice che vi farà condividere il vostro livello super mario maker 2 bellissimo bellissimo portatile questa volta perché lo potete portare con nintendo switch e nintendo switch light ed è un gioco adatto per tutti i bambini dai più piccoli ai più grandi e sempre più bello potrete vedere se il vostro amico supera il vostro livello o no ebbene per oggi era super mario maker 2 al terzo giorno del calendario dell'avvento e ci vediamo domani cosa apriremo chissà cosa a domani col quattro ciao 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 ciao